Il Signore è capace di cambiare i cuori e far sì che un cuore duro, testardo, divenga docile allo Spirito Santo. Ricordando la conversione di San Paolo nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha tracciato la figura di Saulo. Paolo, uomo con il cuore chiuso che perseguitava i cristiani mentre era in viaggio per Damasco, venne avvolto da una luce dal cielo e cadde. Questa, ha spiegato il Pontefice, è l'immagine di un uomo con il cuore chiuso, è un uomo a terra. Così Paolo capì di non essere come voleva Dio perché Dio ci ha creati per essere in piedi con la testa alta. La strada per aprire il cuore ha aggiunto e proprio l'umiliazione. Scoprì poi di essere diventato cieco ma grazie ad Anania, inviato dal Signore, riacquistò la vista lasciandosi colmare docilmente dallo Spirito Santo. Infatti, ha concluso il Pontefice, protagonista della Chiesa, è lo Spirito Santo che conduce il popolo di Dio e tutti noi che abbiamo durezza nel cuore. Chiediamo al Signore, ci faccia vedere che queste durezze ci buttano per terra. ci invie la grazia e anche, se fosse necessario, le umiliazioni, per non rimanere per terra e alzarsi con la dignità con la quale ci ha creato Dio. E cioè la grazia di un cuore aperto e docile allo Spirito Santo.